Dottore, è arrivato questo pacchettino a contrassegno. Vieni da Hong Kong. Bene, lo stavo aspettando. Va a vedere la malattia, va. Tanto tempo che l'aspettavo. La pillola miracolosa della potenza maschile. Ammazza questi cinesi che so. Proviamo un po'. Ammazza i bestie che è. E mo' per farlo tornare normale, come se fa? Basta un fischio. E mo' passiamo alla pratica. Andreina, Andreuccia. Che pio' ti spappolano. Ammazza questi cinesi, ho dubito le sole, c'è stanno mezzo bione. Andreina, Andreuccia, vieni un po' qua. Che mo' ce penso io. Mi ha chiamato? Guarda un po' là sotto. Guarda un po' là sotto. Ma chi ti ha dato il permesso da fischiare? Va a chiamare la malattia, va. Cidua, mezzo bione ben costato. Prego, si accomodi. Permesso. Buongiorno, buongiorno. Che vuoi? Dottore, dottore io non so quello che devo fare. Non so più quello che devo fare. Sono esasperato. Diciotto figli in diciotto anni di matrimonio. Ah, adesso che mi ricordo, giovanotta. Io un anno fa lei ho esportato tutti e due le intesticoli. Sì, sì, mi ha sterilizzato. Però mi aveva anche garantito che io potevo avere dei rapporti con mia moglie senza nessun pericolo. Naturalmente. Naturalmente è un accidente, quella incinta un'altra volta. Davvero? Già. Ci vuole una seca. Una seca? Andrea, seca. Ecco. Ma cosa fa, dottore? Ma cosa fa, cosa mi vuol secare? Ma che ha capito? Io ti voglio secare quel quintale di corna che c'è in testa. Ah, ah, ah.